Nome? Umberto. Lazzati. Di cosa si occupa la tua azienda? Siamo una piattaforma per la mobilità a livello nazionale al momento che consente di aggregare tutti i car sharing presenti sul territorio, cioè le macchine che la gente può affittare tramite prima le applicazioni proprietarie dei singoli car sharing, ma attraverso la nostra aggreghiamo ogni tipo di servizio e si spera altre entità legate alla mobilità sostenibile, alla sharing economy in generale, cioè parcheggi e cose di qualunque tipo. Quindi facciamo un esempio, io ho bisogno di prendere una macchina a Brescia, mi rivolgo alla vostra piattaforma, quali sono i vantaggi che posso ottenere? Attraverso la nostra piattaforma ci si registra il servizio locale, in questo caso della città di Brescia, ed è possibile la prenotazione attraverso l'app proprietaria e di conseguenza al servizio legato alla città di Brescia, ma anche a tutte le città presenti sul territorio nazionale che hanno effettivamente un servizio di car sharing attivo sul comune di riferimento Milano-Roma. I primi riscontri che avete avuto, se ce ne sono? Noi abbiamo in un anno, vantiamo circa 10.000 download o qualcosa di più per quanto riguarda la piattaforma Apple, perché è la più stabile e di più facile programmazione, più standardizzata diciamo, e circa 200-300 utilizzatori attivi al mese che usufruiscono del nostro servizio e prenotano con la nostra app, quindi si spera di crescere sempre di più, sia a livello di funzionalità che come utilizzo da parte della gente. Grazie. Grazie a lei.